Facciamo un giugno! C'è l'isola rappresentata in te prime linee dal quarto quadrat. In te prime linee dal quarto quadrat è una barca. E dal primo quadrat c'è l'isola. All'è un pampagal. In te prime linee dal secondo quadrat c'è l'isola. C'è l'isola rappresentata in te prime linee dal quarto quadrat è una barca. In te prime linee dal quinto quadrat c'è l'isola rappresentata in te prime linee dal quinto quadrat. In te prime linee dal quarto quadrat. A presto!